Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. In questi giorni siamo stati colpiti dalla notizia appunto tragica della scomparsa di sua maestà Elisabetta II di Windsor, del Regno Unito, appunto regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, capo del Commonwealth, capo della Chiesa d'Inghilterra, difensore della fede addirittura appunto tra i suoi vari titoli eccetera eccetera. e quindi appunto ecco un'ondata di lutto, di nostalgia per questa figura appunto così importante che per 70 anni ha guidato il suo regno pur nei limiti chiaramente di una monarchia costituzionale come quella inglese che è poi antichissima, ricordiamo appunto fin dal 1215 la monarchia inglese è una monarchia di fatto costituzionale e quindi appunto questo ricordo del passato, di questa regina che è passata da Churchill alla nuovissima prima ministra Truss eccetera eccetera. Però si fa anche un gran parlare ovviamente del futuro, di questo nuovo re, insomma è stato Carlo III di Windsor che fin da appunto, fin dalla scomparsa appunto di sua madre, la regina, è di fatto il nuovo sovrano del Regno Unito e quindi appunto tra queste cose del futuro di questo nuovo re, le cose che cambieranno, si parla molto anche sui social e del nuovo inno, molti dicono appunto l'inno, mi fa così strano, qualcuno sottolinea, mi fa così strano che l'inno appunto nazionale inglese verrà cambiato, non è più chiaramente God save the Queen, Dio salve la regina ma God save the King, Dio salve il re. In realtà appunto proprio dell'inno inglese, o meglio dell'inno del Regno Unito che voglio parlarvi oggi, che è una storia molto particolare, anche al di fuori dei confini di Londra ecco e in realtà appunto torna a essere ciò che è sempre stato, perché appunto precedentemente il Regno Unito ha sempre avuto un re, tranne la lunghissima chiaramente parentesi della regina Vittoria appunto questa antenata così importante di Elisabetta, ma precedentemente appunto l'inno quando è stato adottato siamo intorno agli anni 40 del 700 quindi appunto l'inizio di questa nuova dinastia degli Hannover, quindi una dinastia di fatto tedesca che siede sul trono tutt'ora, che siede appunto sul trono di Londra e quindi appunto a quei tempi c'era appunto un re e quindi appunto l'inno venne preso come God save the King Dio salve il re. E quindi anche qua una prima curiosità quest'inno si inserisce in quella serie di inni preghiere che tra 7 e 800 furono un po' la caratteristica degli inni nazionali europei prima di tutto siamo in un'era in cui gli inni iniziano a nascere prima non si sentiva il bisogno che una nazione avesse appunto una melodia che la rendesse riconoscibile, che la rappresentasse e quindi appunto nascono in questo periodo inni nazionali e nascono appunto in queste varie monarchie, più o meno assolute come inni preghiera, preghiera appunto per la salute del re e anche qui ecco un'altra curiosità, la più grande probabilmente l'inno nazionale britannico non è un originale trae origine da una canzone che appunto non era un inno nazionale era una canzone dedicata al sovrano questo sovrano e altri non era che sua maestà cristianissima Luigi XIV di Bourbonne, Francia, re di Francia, Navarra, il re sole insomma no, questo simbolo dell'assolutismo monarchico colui che aveva costruito la regia di Versailles eccetera appunto è anche lui il sovrano più longevole della storia appunto che supera addirittura appunto i 70 anni del regno di Lisbeta II e quindi appunto dobbiamo ricordare come questo re per quanto appunto abbia vissuto molto lungo soprattutto per la sua epoca questo re appunto era molto 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 malato aveva sempre avuto fin da bambino una salute estremamente fragile le condizioni di igienica appunto della corte di Parigi prima e di Versailles dopo non aiutavano e su questo farò un video perché c'è molto da raccontare sotto appunto gli sfarzi delle parrucche degli abiti sfarzosissimi di questi ambienti rococò molto marcio se ne dava e di questo appunto ne parleremo forse più che nelle catapecchie appunto del centro medievale di Parigi ebbene appunto il re come dicevo comunque soffriva di molte molte malattie malattie di vario tipo e pressoché a ciclo continuo una delle più gravi fu è abbastanza ridicolo ma questa storia storia vera ben documentata fu una fistola anale che appunto faceva molto soffrire re Luigi XIV e soprattutto era molto difficile da curare pressoché inoperabile alla fine appunto il medico di corte fu costretto appunto a operare perché il re ci stava appunto lasciando le penne le regali penne e quindi appunto si decise di provvedere per miracolo come fu come non fu l'operazione riuscì il re riuscì a sopravvivere il compositore di corte dell'Hulli compose appunto questa canzone Ren Dieu sauve le roi una canzone con toni estremamente infatici estremamente gloriosi quasi il re avesse vinto una grande battaglia contro dei nemici e invece no appunto era per ringraziare il nostro signore di come sua maestà cristianissima questo era il titolo dei re di Francia dal fine del 400 in avanti da Carlo VIII in avanti fosse appunto riuscito a sopravvivere a questa imbarazzante e difficilissima operazione e quindi appunto ecco come nasce Grandieu Salve il re come appunto poi fu circa una cinquantina d'anni più tardi appunto venne presa questa melodia venne presa appunto per il Regno Unito e da lì divenne una specie di alcuni lo chiamano come un'internazionale monarchica una melodia che appunto ha accompagnato le monarchie di mezzo mondo e non solo le monarchie perché appunto la melodia ebbe una grandissima fortuna e infatti la ritroviamo la ritroviamo sempre nel filone degli inni preghiera in un primitivo inno dell'impero russo Dio proteggi lo zar dal 1816 al 1830 all'incirca 33-34 l'impero russo appunto ebbe questa preghiera appunto come inno nazionale e con questa melodia dopo appunto il testo pressoché mutato dagli anni 30-800 in avanti fino alla fine della monarchia appunto russa dei Romanov nel 1917-18 fu appunto il testo pressoché mutato la melodia cambiò invece appunto e non solo fu anche ed è tuttora inno del principato di Liechtenstein quel piccolissimo principato appunto ultimo residuato della monarchia sburgica appunto dei vari feudatari della monarchia sburgica appunto tra Aust e Svizzera appunto tuttora è inno nazionale è stato inno nazionale svizzero ricordiamo la Svizzera assolutamente non è una monarchia eppure appunto ha avuto questa melodia per lungo tempo fino al 1961 quando ha adottato l'inno attuale è stato inno nazionale della casata imperiale e reale di Johann Soller quindi di Germania specifico appunto in questo caso quando Johann Soller erano solamente re di Prussia quindi fino al 1870-71 era l'inno solamente della dinastia l'inno nazionale re di Prussia era un altro quando Johann Soller nel 1871 dal febbraio gennaio scusate nel gennaio 1871 divennero appunto imperatori di Germania oltre alla carriera di Prussia quest'inno Heil dir im Siegerkrantz salute a te coronato di vittoria divenne appunto non solo l'inno dinastico ma anche l'inno nazionale del secondo Reich l'impero appunto l'impero tedesco che venne spazzato via poi dalla sconfitta nel novembre del 18 prima guerra mondiale e dopo fu addirittura inno nazionale beh a parte il fatto che appunto è stato e in parte è inno nazionale non solo del Regno Unito ma chiaramente di tutto il grande impero britannico e poi adesso ci sono chiaramente le variazioni col Commonwealth ogni stato ha il suo ha un po' più però o è stato o è tuttora appunto l'inno nazionale anche di tutte queste di queste nazioni sparse per i tre quarti del mondo appunto ricordiamo come l'impero britannico sia stato il più il più grande impero della storia veramente mondiale inno appunto del Regno delle Hawaii adesso voi direte c'è stato un Regno delle Hawaii ebbene sì c'era anche il Regno delle Hawaii non durò molto lungo ma addirittura un personaggio come Francesco Giuseppe l'imperatore d'Austria aveva tra le sue decorazioni tra le sue varie non efficienze appunto alcuni cavalierati donati appunto dal Regno delle Hawaii e tra le altre quindi siamo torno alla metà fino al 800 prima appunto che questo Regno Unito sia spazzato via dal colonialismo statunitense gli Stati Uniti gli Stati Uniti appunto per quanto così strenui nemici appunto del Regno Unito appunto ricordiamo come siano siccome gli Stati Uniti nascano come coloni inglesi che poi si staccano si ribellano la madre patria fanno la guerra di indipendenza appunto sotto George Washington agli anni 70 e da lì appunto non volevo più saperne chiaramente di Londra eppure dal 1830 al 1931 quindi per cent'anni gli Stati Uniti d'America ebbero un inno appunto con un testo chiaramente ben cambiato ma appunto anche lì comunque con molti riferimenti religiosi e però appunto aveva la melodia dell'inno nazionale britannico dopo nel 1931 adottarono quello attuale la The Star Spangled Banner e sono la bandiera stella e strisce e molte molte casate tedesche appunto delle vari stati germanici prima dell'unificazione di Bismarck e di Johan Zollern appunto di cui si parlava prima molte casate tedesche appunto ebbero in alcuni momenti della loro storia un inno appunto con la melodia dell'inno britannico il regno di Baviera dei Wittelsbach ma soprattutto il regno di Sassonia dei Vettin dopo prima di cambiare appunto di cambiare melodia appunto melodia e testo e anche in quel caso appunto ricordiamo era una inno preghiera perché Dio proteggesse la maestà del re ci siamo sempre un po' in quell'ambiente ma non so tante altre tante appunto altre altri casi nel mondo per alcuni periodi addirittura nel Nepal che comunque in qualche modo appunto rispondeva all'impero di Londra eccetera eccetera quindi appunto è veramente un inno che ha avuto una grandissima fortuna che ha avuto una fortuna soprattutto in questi ambienti monarchici appunto e che adesso appunto nella sua variante diciamo originale che se appunto ricordiamo l'originale era del regno di Francia appunto e non era un inno nazionale quanto appunto un inno personale in onore del re e adesso appunto questo inno britannico torna appunto non viene cambiato non è una mutazione così ex novo cambia appunto torna alle origini come God save the king Dio salvi il re suo maestà Carlo III di Windsor del Regno Unito di Gran Bretagna in Irlanda re del Regno Unito per grazie di Dio eccetera come è stato proclamato quest'oggi appunto non so se avete seguito i notiziari tra l'altro l'ultima cosa Windsor questo casato come vi ho già detto prima in realtà un casato di origine tedesca perché alla morte appunto dell'ultimo Stuart ecco appunto scusatemi siamo intorno appunto al 700 viene chiamato a governare questo lontano parente discendente appunto degli Hannover dei re di Hannover dell'elettore addirittura usiamo questi termini della nobilità tedesca era elettore di Hannover legati appunto anche ai Sassoni a Coburgo Gotha quindi appunto un ramo collaterale dei Sassoni appunto dei Vettin e però appunto nel 1917 siamo in piena prima guerra mondiale sua maestà Giorgio V il nonno della compiante di Elisabetta II appunto decise che siamo in guerra da anni contro l'impero tedesco non possiamo avere sul trono di Londra una famiglia tedesca con nomi tedeschi quindi appunto cambiarono cancellarono Sassoni a Coburgo Gotha e Saks e Coburg un Gotha in originale che tra l'altro poi sarebbero anche gli attuali sovrani del regno del Belgio del regno del Belgio appunto sono di questa famiglia e quindi appunto scelsero come cognome di cognomizzare il luogo della loro principale tenuta fuori Londra Windsor appunto quindi ecco vi avendo il casato di Windsor come sono tuttora appunto conosciuto Carlo III di Windsor del regno unito io vi ringrazio come sempre di avermi seguito fin qua vi raccomando come sempre se il video vi è piaciuto se i contenuti vi interessano di lasciare un like e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati in descrizione vi lascio alcuni video con alcuni di questi inni di cui vi ho parlato quest'oggi vi lascio anche il link che vi porterà i profili social appunto del canale questo canale youtube il mio profilo instagram il profilo instagram del canale il profilo tiktok vi ringrazio ancora vi auguro una buona serata ciao a presto god save the king